Tutto l'orto in una busta. Questo è il sacchetto dei surgelati conservato nel frigorifero del supermercato, questo invece è l'ortaggio appena colto. In mezzo ci sono meno passaggi e meno chilometri di quanto si possa pensare. Ci siamo messi sulle tracce delle verdure a marchio orti in maremma, broccoli, spinaci e bietola in promozione in questi giorni nei supermercati Unicop Firenze ed ecco dove siamo arrivati. Spinaci e bietola provengono dai campi della Val di Cornia, i broccoli ci hanno portato a due passi dal parco dell'Uccellina. La filiera è estremamente corta, passa da noi produttori tramite una cooperativa e va a finire direttamente sul banco del supermercato senza nessun altro tipo di intermediario. Nedo, 29 anni, da 10 al lavoro nei campi grossetani come suo padre e suo nonno, è uno dei 18 soci coltivatori della cooperativa nata nel 2011 per valorizzare il lavoro degli agricoltori maremmani e garantire al consumatore finale la qualità del prodotto, ma non solo, c'è un vantaggio in più. La possibilità di vedere e di poter seguire tutta la filiera del prodotto direttamente dall'azienda fornitrice di Hop è garanzia di salubrità e di qualità del prodotto. Credo che questo sia il maggior vantaggio che può avere questo. E in più, essendo insomma qui tutti possono vedere quelli che sono i prodotti coltivati e volendo possano venire a visitarci in qualsiasi momento. Tutto il processo produttivo è seguito dalla cooperativa maremmana, 58 dipendenti in tutto, che semina e coltiva le verdure. Poi le surgela nel proprio stabilimento di Grosseto e infine le imbusta. Nel giro di tre giorni dalla raccolta gli ortaggi sono pronti per essere spediti ai punti vendita di tutta la Toscana, prodotti e surgelati nel raggio di una sessantina di chilometri tra le campagne di Grosseto e di Livorno. Qui ad esempio siamo nella Val di Cornia, famosa per il suo spinaccio. Per la semina, le semine ci vogliono circa 50-60 giorni dal momento della semina alla raccolta. Sono prodotti che hanno bisogno di una sua stagionalità ideale, sicuramente di un territorio come può essere il nostro qui in Val di Cornia. Bisogna però sfatare un mito, le verdure surgelate non sono di serie B, anzi non c'è aggiunta di conservanti e le proprietà nutritive dell'ortaggio fresco rimangono intatte. grazie a un procedimento che porta al prodotto, dopo il lavaggio e una breve scottatura, fino a temperature sotto i meno 30 gradi centigradi. Il grosso vantaggio delle verdure surgelate è che possono essere raccolte nel loro momento migliore di maturazione e quindi sicuramente si possono trasmettere al prodotto le migliori condizioni e le migliori qualità che il prodotto ha in campo. Fila raccorta significa quindi far ripartire l'economia locale, in questo caso della Maremma, dove ogni giorno i piccoli agricoltori si svegliano all'alba e affrontano pioggia di rotto e sole a picco, freddo pungente e caldo soffocante. Un po' una passione più che un lavoro è una passione, questo è scontato perché gli orari sono a volte impossibili, però le soddisfazioni ci sono e quindi al di là del lato economico è una passione personale.